quando tenti di conoscere una ragazza dal vivo è fondamentale metterla a suo agio ossia la ragazza deve sentirsi al sicuro non intimorita non in pericolo non pressata e non in una condizione di imbarazzo quindi ora ti svelo 5 trucchetti magici per metterla a suo agio dal vivo 1 tieni la giusta distanza le ragazze all'inizio e specialmente di giorno preferiscono l'uomo che tiene una certa distanza qual è la distanza ottimale due volte la distanza tra mano e gomito quando questo è a 90 gradi se ti avvicini troppo le metti pressione se ti allontani invece aumenterai le probabilità che se ne vada 2 non fare movimenti bruschi se all'improvviso facessi dei movimenti bruschi la ragazza finirebbe per spaventarsi immagina stai parlando con uno sconosciuto e questo tutto ad un tratto fa un movimento brusco penseresti subito alla tua incolumità bene per lei è lo stesso 3 sorridi il sorriso favorisce la socializzazione e l'armonia tra le persone ossia è un catalizzatore di energia positiva se sorridi la ragazza si sentirà meno tesa e più a suo agio ossia percepirà leggerezza 4 controlla la respirazione quando tu controlli la tua respirazione ti senti più riassato vero il fatto che tu sia tuo agio si riflette anche nella ragazza di turno pertanto quando sei con lei respira 5 mantieni il contatto visivo se tu guardi la ragazza negli occhi significa che sei a tuo perfetto agio nel farlo e questo farà sì che anche lei ti guardi negli occhi più questa azione è reciproca e più è probabile che stare accanto a te diventi parte della sua zona di comfort per aver guardato questo video hai il 30 per cento di sconto sui nostri corsi al vivo play lover weekend e play lover master si è capito bene in occasione del mese del black friday abbiamo deciso di tagliare il prezzo di destino del 30 per cento in modo da non poter sentire più la solita scusa e ma non ho soldi perché c'è lo sconto e puoi pagare anche a rate www.playloveracademy.it oppure scrivi su whatsapp al 329 812 6226